I ladri non risparmiano Altavilla, Silentina. Nella notte di giovedì 4 maggio alcuni malviventi non identificati si sono introdotti in un'abitazione della contrada Olivella e sono riusciti a prelevare diversi oggetti di valore. Hanno portato via di tutto anche gli oggetti che rappresentavano gli ultimi ricordi che avevo dei miei nonni. Ha lamentato la proprietaria dell'abitazione. I ladri infatti hanno sottratto anche beni di importante valore affettivo. I residenti hanno denunciato la mancanza di controlli sul territorio, specie nelle ore notturne, e hanno chiesto l'incremento delle forze dell'ordine per contenere il fenomeno dei furti.